Presentata questa mattina presso l'Aula Consiliare di Eboli l'edizione 2019 del Carnevale. Tante le iniziative in programma per una festa che coinvolgerà tutta la comunità. Il Carnevale del Stelo ormai è diventato un momento importante per tutta la regione Campania. Noi quando siamo partiti quattro anni fa con l'associazione Seleventum avevamo iniziato con pochi carri e con tanto amore e con tanta passione. Nel giro di soli quattro anni siamo arrivati a ben sei carri di uno spessore, qualcosa da vedere perché saranno bellissimi con il supporto di tutte le associazioni di danza, con i comediati di quartieri, con i briganti dell'Ermice con il comediato paterno per quanto riguarda la festa del Dona Annibile. Ma in modo particolare questo Carnevale del Sere l'abbiamo voluto proprio denominare in questo modo perché si realizza grazie in modo particolare ai nostri concittadini di Santa Cecilia che credono fortemente in questa bella tradizione e abbiamo condiviso con loro anche i momenti che sono quelli della presentazione del 2 marzo a Santa Cecilia, il 3 marzo lo faremo qui ad Eboli e il 5 marzo tutta la giornata dedicata alla nostra comunità di Santa Cecilia appunto per aggregare, per dare entusiasmo in un momento particolare che crede che anche queste sono occasioni per poter far crescere il nostro territorio.